Carissimo Antonio, carissima Stefania, la celebrazione delle nozze cristiane di due persone battezzate è una esperienza di fede, è una testimonianza di fede, una parola che ci fa capire lo spessore e il significato di questo momento, ma soprattutto infonde nei vostri cuori la grazia per essere da oggi in poi quello che qui celebrate all'altare. La celebrazione del matrimonio prima ancora che l'assunzione di un impegno, carissimo Antonio e Stefania, è l'accoglienza di un dono. Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. . 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